Mario Blufoli numero 1, 2 Fondorallo, 3 Marcato, 4 Luise, 5 Taglio, 6 Ginocchi, 7 Coline, 8 Pettata, 9 Moletto, 10 Piccolo, 11 Molata Mario Blufoli numero 1, 2 Fondorallo, 3 Fondoriano, 2 Fondoriano, 4 Fondoriano, 4 Fondoriano, 4 Fondoriano, 4 Fondoriano, 7 Costantini, 8 Scorcolano, 9 Fondoriano, 13 Ciline, 11 Compagna il bambino è 12 ferro, 12.8, 14 novello, 15 mistero, 16 per il fuoco, 17 scaro, 12 per 3 cose, quella è la prova di una signora Maure Bossani ricordiamo che prima dell'incontro aveva osservato un numero di silenzio su disposizione della guerra nazionale diventati in memoria delle vittime dell'opera Ligo Piano e dell'incidente ad elicottero da 100% a Campo Felice un buon pomeriggio a Campo Felice Grazie a tutti. 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 a tutti.